Gli avvenimenti successi in questi giorni circa la cura e i miei collaboratori hanno recato tristezza nel mio cuore, ma non si è mai offuscata la ferma certezza che, nonostante la debolezza dell'uomo, le difficoltà e le prove, la Chiesa è guidata dallo Spirito Santo e il Signore mai le farà mancare il suo aiuto per sostenerla nel suo cammino. Si sono moltiplicate tuttavia illazioni, amplificate da alcuni mezzi di comunicazione del tutto gratuite e che sono andati ben oltre i fatti, offrendo un'immagine della Santa Sede che non risponde alla realtà. Desidero per questo rinnovare la mia fiducia e il mio incoraggiamento ai miei più stretti collaboratori e a tutti coloro che quotidianamente, con fedeltà, Spirito di sacrificio e nel silenzio, mi aiutano nell'attempimento del mio ministero. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.